Anticipazioni Tempesta d'amore Mercoledì 23 ottobre 2019 Le speranze di ritrovare Eva e Christophe, sani e salvi, si affievoliscono sempre di più. Robert si rassegna l'idea di aver perso per sempre la sua amata. Valentina è l'unica a credere che i due siano ancora vivi e che ritorneranno in Germania. Inoltre pensa e ripensa al sogno fatto pochi giorni prima. Cosa voleva dirle in realtà la madre? Denise intanto non si sente all'altezza del nuovo compito che le è stato affidato. Dirige l'azienda, ma tante, troppe, sono le mansioni che deve espletare e desidera potersi confrontare con il padre. Grazie a tutti.